C'è una cosa che ogni parlamentare della Repubblica italiana dovrebbe sempre ricordare e lo ha detto in un'intervista a Matteo Renzi. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi in un'intervista a proposito delle unioni civili ha detto a testuali parole È una frase che forse ha sconvolto qualcuno che potrebbe sembrare rivoluzionaria, ma è una semplice verità. Un politico italiano, quando riveste un incarico importante, giura sulla Costituzione italiana, non sul Vangelo. Perché, come dice l'articolo 7 della Costituzione, lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. In altre parole, lo Stato italiano dice di essere un'altra cosa rispetto allo Stato Vaticano. E ogni politico italiano che si rispetti, questo dovrebbe tenerlo sempre a mente, sempre chiaro. Una cosa è il Vaticano, un'altra cosa è la Repubblica italiana. Sono due Stati completamente diversi. Non sembra però che, stando ai fatti, che molti politici italiani si ricordino di questa distinzione. Tanto è vero che, ammantandosi della definizione di cattolico, portano avanti delle lotte e delle battaglie che nulla hanno a che fare con la libertà dei cittadini. Sembrerebbe, infatti, che alcuni cattolici in politica abbiano come obiettivo finale quello di far diventare la Repubblica italiana un satellite del Vaticano. E confezionano leggi che, invece di garantire la libertà dei cittadini e la loro indipendenza di pensiero, li spingano verso la vita da cattolici loro malgrado. Tutto ciò è paresemente sbagliato. L'Italia non è e non deve diventare uno Stato teocratico, eterodiretto dal Vaticano. E ha maggior ragione quando si parla di leggi che dovrebbero garantire la libertà individuale, la libertà di pensiero, che non dovrebbero fare in modo di ostacolare queste due cose, ma dovrebbero garantirla per tutti i cittadini italiani, siano essi appartenenti a una maggioranza o a una minoranza. Questo è il lavoro che deve fare un politico eletto in Italia. Bene, se questo video ti è piaciuto, fammelo sapere con un mi piace o con una condivisione, oppure se vuoi lasciare un commento sarò felice di leggere e di rispondere. Se vuoi puoi iscriverti al mio canale in modo che non perderai i prossimi video e oppure seguimi sugli altri social network. Ciao!